Il meccanismo è uno di quelli che fanno sorridere per la sua farraginosità, poiché il tatarellum prevede per la fissazione delle date un sistema di regressione. Si vota cioè nelle quattro settimane antecedenti alla consultazione passata. La Puglia nel 2010 è andata alle urne il 28 e il 29 marzo. Facendo un po' di conti sul calendario, le prossime consultazioni dovrebbero svolgersi tra il primo e il 29 marzo del 2015. Altre regioni hanno esteso questi termini temporali andando anche in periodi successivi. A sciogliere il rebus saranno gli esperti della prefettura ai quali sono stati chiesti lumi sulla possibilità di derogare ai principi generali. Prolungare la vita del Consiglio attuale prolungherebbe anche gli stipendi e certo sei mesi in più, se si considerano anche i tempi necessari per la proclamazione degli eletti, non fanno certo male alle tasche dei diretti interessati, ma sicuramente fanno sapere fonti ministeriali, poiché è il ministero che decide, anche questa volta si opterà per l'Election Day, che metterà insieme anche la tornata amministrativa nei comuni.